Siamo in corso Sempione 10, ospiti di Nike e di Foot Locker Ecco, il protagonista è sto ragazzo qua, 19 anni appena compiuti, terzino sinistro dell'Inter chissà anche terzino sinistro della Nazionale per i prossimi mondiali, vedremo è uno dei pochi terzini sinistri circolanti sulla terra in questo momento, almeno in Italia ti avranno obbligato anche a te a fare questo ruolo, immagino, che non lo vuole fare nessuno Ho incominciato come un esterno alto di centrocampo poi da quando ho incominciato a giocare con la primavera mi hanno spostato terzino e da lì poi ho incominciato tutta la mia esplosione Questi primi mesi da star, insomma Nike, gli spot, insomma questo mondo luccicante è come te l'aspettavi o è un pochino più palloso del previsto? Anche se ho fatto quello che mi è successo sono rimasto sempre quello poi è ovvio che ti cambia tutto, le attenzioni magari quando giri per strada devi stare più attento la gente ti vede avere un bicchiere e ti dice subito che ero ubriaco però tu sei a Stemio quindi questo non succederà Sì, sì, sono a Stemio No, vabbè, non sono a Stemio, io penso che a 18 anni c'è il bisogno di divertirsi però nei momenti giusti Il tifoso controlla, insomma Sì, poi il tifoso se non rende in campo e ti vede in giro Ti becca all'Hollywood per l'orecchio Vai a casa E poi insomma c'è un Davide che si sta facciando proprio a una nuova vita per esempio è andato a vivere da solo da poco, no? Per me è un'esperienza nuova e ovvio mi sono trasferito a 14 anni però bene o male sono sempre stato in compagnia con altri miei compagni di squadra Sei solo in casa? PlayStation, PlayStation Virtua Tennis 2009 è l'ultimo gioco Poi mi piace il gioco del calcio, Pro Evolution anche FIFA 010 e sono giochi molto belli Davide ha un fratellino piccolo che vive ancora al paese, in provincia di Ferrara dove loro arrivano e che gioca a calcio anche lui Milanista pure il fratellino? Ma, sì, il fratellino è milanista Milanista pure il fratellino? No, vabbè, io diciamo che sono simpatizzante per il Milan però da quando ho incominciato a calcio questa squadra è ovvio che poi metti da parte magari anche la squadra del cuore È vero che hai una passione smodata per la pesca? A me la pesca è sempre piaciuta quando il mister ci lascia due giorni liberi magari torno a casa invece di andare in piazza con gli amici mi prende e vado a pescarmi, vado a fare una pescata Mi piace molto pescare la carpa la carpa è il pesce ideale anche perché quando lo tiri su ti diverti È vero che vuoi sempre giocare a scopa? Tipo Pertini? Mi piace giocare a carte, mi piace scopone, scopa, scala 40 Insieme a Davide Santon un saluto agli amici di Max Ciao a tutti A vedere la scarpetta? No, non si può, non si può No, non si può, non si può